Sono state quasi ultimate le operazioni di smontaggio del palco di Piazza Angelo Scandaliato, segno inequivocabile che nel prossimo fine settimana non ci sarà alcuna manifestazione carnascialesca. Questo nonostante dalla questura ad oggi non sia ancora arrivata né alla Futuris né al Comune alcuna risposta in ordine alla richiesta di slittamento del Carnevale a questo weekend da domani a domenica. Alla società organizzatrice dell'evento non è rimasto altro da fare se non procedere alla rimozione del palco e al ripristino dello stato dei luoghi di propria competenza, comprese le aree che erano state concesse alle attività economiche. Discorso diverso invece per i carri allegorici che ancora completamente integri continuano a stazionare lungo viale della Vittoria dove si trovano parcheggiati da venerdì scorso, da quando cioè lo spettacolo venne interrotto a seguito della tragica morte del piccolo Salvatore Sclafani. È chiaro che le associazioni culturali attendono dall'amministrazione comunale una comunicazione su cosa fare e come procedere. In ogni caso, una volta smontati, si porrà per le associazioni il problema di come e dove conservare le opere in vista di una edizione che potrebbe svolgersi a giugno. E' questa l'ipotesi più concreta anche se il sindaco Francesca Valenti oggi al nostro telegiornale preferisce non pronunciarsi ritenendo che al momento, alla luce della emergenza coronavirus, non è possibile ipotizzare nulla. Riguardo al carnevale noi avevamo fatto una richiesta in prefettura sulla base anche della richiesta fatta dalla società organizzatrice da Futuris per poter svolgere la manifestazione questo prossimo fine settimana. Non abbiamo avuto alcuna autorizzazione in tal senso e quindi non è stato convocato il tavolo previsto, verosimilmente anche per le emergenze che in questo momento stanno riguardando le autorità competenti, quindi prefettura e questura prima fra tutte. Questo significa che non si è proprio nelle condizioni per poter immaginare lo svolgimento della manifestazione questo fine settimana, però è anche vero che questa manifestazione non può essere annullata, quindi viene considerata rinviata ad una data che, ci siamo detti ieri nelle varie riunioni, deve essere fissata il prima possibile per poter procedere anche a tutte le campagne di comunicazione, di promozione che sono necessarie. Non è stata stabilita ancora una data, ma anche questo, tenuto conto dell'emergenza che abbiamo sul coronavirus, dobbiamo un attimo capire in questi giorni, in queste ore, qual è l'evoluzione di questa emergenza in maniera credo cauta e responsabile soltanto dopo poter fissare e organizzare la manifestazione.